In realtà mi manca essere l'altra donna. Ci godevi a tradire Rachel? Per favore. Possiamo non parlare di lei? L'ho vista di nuovo oggi. Dove? Oggi pomeriggio, quando la polizia ha riportato Scott a casa, era lì di fronte. Quando mi ha visto è diventata aggressiva. Aggressiva come? E se è Rachel che ha ucciso Megan? Rachel non ha ucciso Megan.